Due partite, zero punti, se si dovesse dare un voto che voto si darebbe? Zero, come i punti che abbiamo preso chiaramente, anche perché i giocatori hanno poca responsabilità, perché ormai è tanto inutile stare qui a trovare... Noi dobbiamo essere più bravi dei nostri giocatori, dobbiamo dargli un aiuto in tutti i sensi, perciò io mi metto sempre davanti ai miei giocatori, se in queste due partite abbiamo fatto zero punti, mi prendo io le responsabilità e basta. Però, a parte queste che possono essere considerate battuti o meno, noi fino alla fine onoreremo la maglia della Cavesia, questo fuori discussione, con tutto quello che ci è stato detto, che in questi giorni è stato detto e ripetuto, noi per rispetto ai tifosi, che chiaramente sappiamo quello che hanno fatto, per rispetto alla società, per rispetto a tante situazioni, noi dobbiamo onorare questa maglia. Fino alla fine, dipendentemente dal fatto della nostra posizione di classifica, che è veramente preoccupante, noi lavoreremo ancora per cercare di rispettare quelle che sono le persone di camera. Due partite, due sconfitte, due sconfitte che però sono venute tutte negli ultimi secondi di gioco, insomma, poteva ritrovarsi con due punti in più, invece si ritrova con zero conquistati. Ecco, come interpreta questo dato? Ma, come dicevo prima, secondo me è una questione psicologica al massimo proprio, ha portato all'estremo. I ragazzi non sono tranquilli, sono troppo preoccupati di tutto, sono preoccupati di tutto. Quindi dobbiamo continuare, non fermarci, pensare poco e cercare di lavorare, basta. Fragile in difesa perché basta un errore, insomma, o a volte ne commette anche più di uno durante la partita e scompaggina tutto. A centrocampo una squadra di corsa, fatta di volontà, poco geometrica, poco euclidea, avrebbe detto Gianni Brera, è in attacco a sfittica, se non segna Camillo Ciano, insomma, non segna nessuno. Era così fino a 15 giorni fa, ancora tutt'oggi, è ancora così, no? Eh, naturalmente anch'io non sono riuscito a dare quello che la società si aspettava da me, perciò il maggior responsabile sono io. Ha parlato proprio in conferenza stampa anche della possibilità di cambiare qualcosa da un punto di vista del modulo, il modulo che lei ha proposto, anche quello, è stato sotto esame, lei l'ha messo sotto esame? Eh, chiaramente, non potevo cambiare modulo tutte le domeniche. Adesso dopo due prestazioni con questo modulo vedremo se è il caso di fare qualche variabile. Giocatori ce no, vedremo in questi 15 giorni chi mi dà più garanzie, anche perché li vedo quotidianamente e quindi faccio giocare quelli che mi riesco a individuare e che mi diano più garanzie. Quindi abbiamo 15 giorni per lavorare bene, per cercare di trovare una condizione, ma ripeto, deve essere una condizione soprattutto psicologica, non tanto fisica, neanche tecnico-tattica. Ha fatto già riferimento ai singoli, lei non ha apportato modifiche invece nei singoli, i giocatori tutto sommato che hanno giocato negli ultimi 15 giorni erano quelli che hanno giocato anche un po' prima. Gli altri, lei ha una rosa molto ampia, 28 giocatori, insomma, dai Dorsi ai Siano, dai Oros ai Zampa a Santaniello, insomma, con loro pensa di poter anche, eventualmente, insomma, prevedere qualche mutamento in formazione, sta pensando anche a questo. Ma io ho bisogno di tutti, l'ho detto prima anche ai suoi colleghi. Chi mi fa vedere in settimana che gioca e si impegna più, fa qualcosa di più di quelli che hanno giocato, per me sono giocatori che possono benissimo giocare, quindi dipende da loro quello che vogliono fare. Domenica il crocifisso di turno è stato Pagano sul gol, a volte Pagano, altre volte Troise, e poi la risposta su Pagano e poi le chiedo, ma Troise è solo una questione fisica o è il sacrificato di turno, non da parte sua, magari da qui alla fine del campionato, il capo espiatorio di questa situazione? No, no, Troise non è nessun capo espiatorio. Domenica non era ancora in grado di giocare perché erano tre giorni che si allenava, quindi mi sembrava la partita di Domenica che necessitasse di giocatori al pieno della forma fisica, ma peraltro Iside è un giocatore che per noi può essere importante, come ripeto, possono essere importanti tutti gli altri. L'errore di Pagano, a me non piace mai colpivolizzare un giocatore singolo, il ragazzo ha già capito, gli ho parlato oggi, è cosciente, deve stare solo più sereno e più tranquillo e basta. Adesso c'è la sosta, quanto mai opportuna, la possibilità di conoscere meglio il gruppo, di farsi conoscere meglio, modificare il modulo tattico e poi andare verso una salvezza nella quale lei crede fortemente, ha detto prima. Ma io ci devo credere per forza, se non alla salvezza devo credere a un comportamento dignitoso e rispettoso nei confronti di chi ci paga prima di tutto e di conseguenza anche alla tifoseria. Noi non possiamo permetterci di offrire prestazioni che non siano di rispetto per chi ci dà da mangiare e chi ci viene a vedere la domenica. Quei ragazzi lanciati, inviati sotto la curva, con il suo dito che indicava espressamente di andare verso i tifosi, significava proprio questo? Andare verso i tifosi solo quando si vince mi sembra abbastanza comodo, bisogna prendersi le proprie responsabilità anche quando non si vince. Andare verso i tifosi solo